Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrea di Scommesse.commenti e recensioni.com e assieme a Michele Marcello vi regaliamo ogni settimana i nostri pronostici gratuiti sulle partite dei mondiali e altre competizioni calcistiche. Oggi infatti siamo qui per le prime partite della fase gironi dei mondiali di calcio in Qatar 2022. La prima partita che andremo a analizzare oggi è Inghilterra-Iran, però prima di cominciare ragazzi vi voglio ricordare di seguire il video fino alla fine per non perdervi tutte le nostre scommesse perché ragazzi come avete potuto capire anche dai video scorsi qualsiasi nostro pronostico può essere vincente anche quello che mettiamo in fondo al video, quindi mi raccomando seguite tutto il video. Comunque detto questo il pronostico di oggi comincia con la prima partita ovvero Inghilterra-Iran. I migliori siti di scommesse vedono favorita l'Inghilterra, infatti sulla lavagna di Marathon Bet l'1 è bancato a 1,37 volte la posta, la X a 4,50 e il 2, cioè la vittoria dell'Iran, a 10 volte la posta. Il pronostico esito finale 1x2 cita Per quanto riguarda i pronostici degli esperti su Inghilterra-Iran troviamo No goal quotato a 1,45 Under 2,5 a 1,65 1 più over 2,5 quotato a 2,35 volte la posta Come risultato esatto 1 a 1 o 1 a 0 pagati 9,25 e 5 su SNAI E per la categoria esito primo tempo X a 2,25 Passiamo ora alla seconda partita di oggi ovvero Qatar-Equador I migliori siti di scommesse vedono favorito l'Equador Infatti sulla lavagna di Marathon Bet il 2 è bancato a 2,40 La X a 3,05 e l'1, cioè la vittoria del Qatar, a 3,40 volte la posta Il pronostico esito finale 1x2 cita L'X2 pagato 1,32 su SNAI.it e 1,35 su Planetwin365 Per quanto riguarda invece i pronostici degli esperti su Qatar-Equador Troviamo il goal quotato a 1,70 L'under 2,5 a 1,50 Il 2 più over 2,5 a 4,50 Come risultato esatto 1 a 1 o 0 a 1 pagati 5,75 e 6,50 su SNAI E per la categoria esito primo tempo X a 1,95 Prima di continuare con i pronostici di questo video vi voglio ricordare che Se volete tenere il bonus di SNAI da 325€ dovete cliccare sul primo link in descrizione Ora vi mostro come fare Se siete da computer dovete scorrere il video andando nella descrizione Dopodiché cliccate sul primo link Poi vi si aprirà questa pagina Dopodiché cliccate su avanti e compilate i campi richiesti Se invece siete da cellulare dovete cliccare sul pulsante in alto a destra Dopodiché cliccate sul primo link nella descrizione Ora vi si aprirà questa pagina Cliccate su avanti e compilate i campi richiesti Vi ricordo inoltre che tutti i bookmaker presentati nel nostro canale Sono legali al 100% E in possesso di licenza rilasciata Dalle agenzie dogane e monopoli Che ne garantisce sicurezza e affidabilità Bene, ora che abbiamo terminato con i pronostici degli esperti Sulle partite di oggi Passiamo finalmente alle scommesse combo Infatti oggi abbiamo due scommesse combo per voi La prima è su Inghilterra e Run E la seconda è su Senegal, Olanda Per Inghilterra e Run abbiamo deciso di puntare Su un 1 più over 2,5 Che è quotato a 2,25 alla posta Quindi puntando a 10€ andremo a vincere 22,50€ Mentre invece per quanto riguarda la seconda partita Ovvero Senegal, Olanda Abbiamo deciso di puntare sul 2 Più under 3,5 Che è quotato a 2,15 E quindi puntando 10€ Andremo a vincere 21,50€ Prima di concludere il video però Vi ricordo che se volete tenere il bonus di Golbet da 330€ Dovete cliccare sul secondo link in descrizione Ora vi mostro come fare Se siete da computer dovete scorrere il video Cliccando poi sul secondo link In descrizione Ora vi si aprirà questa pagina Cliccate su registrati e compilate i campi richiesti Se invece siete da cellulare Dovete cliccare il pulsante in alto a destra Poi cliccate sul secondo link in descrizione Ora vi si aprirà questa pagina Cliccate su registrati e compilate i campi richiesti Bene per oggi è tutto Se ti è piaciuto questo video Ti invito ad iscriverti al canale Attivare le notifiche cliccando sulla campanella E a condividere lo più possibile In modo da far vincere anche i tuoi amici Buone scommesse